ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale se siete nuovi molto piacere io sono stefania se vi va di seguirmi sono attiva anche su instagram e lì mi trovate con il nome di love for smell 23 volevo inoltre chiedervi se vi va di iscrivervi anche al canale perché vedo che guardate i video e io vi ringrazio tantissimo ma per me è fondamentale anche che vi iscriviate appunto per potermi permettere di crescere un pochino perché sono veramente molto 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 piccola e ho bisogno di sostegno per l'appunto il video di oggi è dedicato ai profumi arabi low cost uno effettivamente costa un filino di più però ve ne parlerò più avanti come vi avevo detto ve l'avevo promesso e oggi sono qui a parlarvi appunto di questi profumi il primo che ho scelto è appartenente alla casa di afnan è un bellissimo boccettone da 100 ml di profumo e si chiama inara white questo è un profumo che apre con note fruttate non ben definite dalla casa madre ma alcune sono proprio ben riscontrabili e poi ve ne parlo abbiamo poi il gelsomino note centrali sono legno di cedro e vaniglia quelle di base sono note boschive più ambra questo è principalmente un profumo legnoso fruttato e vanigliato apre con un fortissimo sentore proprio fa la sua entrata in pompa magna il gelsomino questo bellissimo fiore notturno è un profumo che è fortemente mielato ma non è solo miele puro perché è un miele mescolato al legno di cedro poi sento anche una forte componente dolce e suppongo che questa componente dolce venga data per l'appunto dalla combinazione che c'è fra il fra la vaniglia scusate e l'ambra oltretutto questo profumo strizza l'occhiolino ad un altro ben più famoso e molto più costoso che è erba pura di sergiof hanno note molto simili e hanno qualche cosa in comune però posso dire io non sono una grandissima fan di erba pura infatti non lo posseggo pur avendolo provato e amo fortemente questo questo è un profumo veramente che per il prezzo che ha è assolutamente fantastico è un profumo molto chic veramente torno a ripetermi è anche leggermente muschiato nel dry down quando va ad asciugarsi da proprio quella sensazione che danno i profumi al muschio questo è un profumo estremamente piaccione ed è un profumo durevolissimo ha una proiezione ed una scia che sono veramente assolute se uno ha il naso un pochino allenato potrà sentire e percepire in tutta la sua presenza il profumo del passion fruit questo va in qualche modo anche a sgrassarlo non che un profumo sia grasso però e penso che possiate aver capito che cosa intendo ed è anche molto presente si sente tutta la nota dello zafferano pur non essendo elencata ma ovviamente non tutte le case madri vanno a dire quello che c'è dentro appunto alle loro fragranze vi posso assicurare cioè vado anche di spruzzarlo che lo zafferano si sente è veramente ragazze un profumo bellissimo è un profumo importante perché è veramente bello denso e bello strong però io veramente mi sento di dirvi di provarlo perché per il prezzo che ha questo è un profumo che va provato è anche leggermente talcato floreale vanigliato è dolcissimo unisex perfetto la seconda proposta del giorno eccola prendiamo la boccettina scusate questo è jasmine wisp di rasasi andiamo a giuro questo è da acquolina alla bocca perché veramente non è da acquolina alla bocca questo profumo allora vi leggo le note come faccio sempre abbiamo fragola cumarina vaniglia barbon ambra allora devono piacervi i profumi dolci perché questo è veramente è dolcissimo è sciropposo è veramente non so mi fa venire in mente le frugioi però non tutte le frugioi immaginate di avere il vostro bel pacchettino e li tirate fuori una ad una finché non arrivate alla frugioi quella viola che penso sia alla mora o se non è alla mora è ai frutti di bosco forse più ai frutti di bosco un mix dolcissimo scioglievole con questi cristalli di zucchero sopra veramente questo ha un accordo fruttato e floreale che è veramente cioè è entusiasmante è un profumo fortissimo e dolcissimo quasi al limite dello stucchevole però io sono una grande amante di questi profumi è sexy è così sexy ragazze cioè questo profumo è secondo me una tira uomini cioè è un unisex però secondo me vita decisamente più verso il femminile e vi assicuro che si girano quando passate con questo addosso si girano a sentire ma non solo gli uomini anche le donne è estremamente seducente è quasi è quasi ammaliante questo profumo è proprio è fatto di una dolcezza avvolgente è impossibile non restarne inebriati c'è un interessante anche qui connubio fra il passion fruit e la fragola questa fragola bella ricca bella zuccherina non spaventatevi dal fatto che nelle note è elencata la cumarina perché io non la percepisco per niente e per fortuna forse è un pochino invernale ma io sinceramente adesso lo porto ancora non fa ancora così tanto caldo da dire che non posso portarlo io lo porto tranquillamente soprattutto la sera devo essere onesta perché la sera fa freddo dunque questo va benissimo ma ragazzi cioè questo dovete provarlo dovete assolutamente provarlo perché veramente è qualcosa di eccezionale lui è jasmine wisp dimenticavo di dire che fra le tre proposte di oggi questo è quello che costa un pochino di più io l'ho comprato su nottino e penso di averlo pagato una sessantina d'euro tra i 60 e 70 però io ovviamente come vi dico ogni volta aspetto gli sconti devo averlo pagato una sessantina d'euro questo è un low cost proprio che fa l'occhiolino anche alla fascia media però è l'unico del giorno l'ultimo l'ultimo è un profumo abbastanza chiacchierato questo è ragba di lattafa questo è un profumo che piace a molti e non piace anche a tanti altri principalmente è una vaniglia quello che io vi consiglio di fare è di dare tempo a questo profumo perché vi dico la sincera verità io ce l'ho da penso un annetto e mezzo quasi due la prima volta che l'ho spruzzato ho pensato ok è buono è una vaniglia interessante ma non è nulla di eccezionale che cosa ho fatto ho lasciato che la vaniglia e il profumo stesso scusate macerasse e devo dire che il profumo alla fine vale veramente molto più di quello che costa vi leggo le note questo è un profumo che contiene vaniglia zucchero ud incenso sandalo e muschio questa ragazzi è una vaniglia ricchissima ma veramente è una vaniglia che in qualche modo riesce anche a darvi la sensazione che potrebbero darvi profumi molto più costosi ragba in arabo significa desiderio e questa è una vaniglia che vi fa venire voglia di prenderla vi fa veramente venire il desiderio di prenderla sceglierla fra tutti i profumi che avete quando lo spruzzate così di primo impatto sentirete un mix fra un sapore caramelloso molto sciroppato quasi denso mescolato ad un rimando alcolico non so bene a che tipo di liquore posso assomigliare potrebbe essere anche un rum detta tutta però io sento questo accordo leggermente busi poi a man mano che appunto il profumo si scalda e prende forma si sente una leggera nota fumosa però non è niente di fastidioso perché se fosse troppo forte a me non piacerebbe sono un amante dei profumi gourmand e questo strizza l'occhiolino ai profumi gourmand c'è una nota zuccherata che è percettibilissima anche da chi di profumi non capisce assolutamente nulla è una sorta di sciroppo al miele liquoroso molto molto dolce se vi spaventa il fatto che contiene l'oud vi posso dire che questo è un'oud educatissimo cioè non è forte non è squillante non è preponderante è veramente un signor hood è molto a modo è molto delicato serve solamente per impreziosire il profumo questo è anche questo forse un profumo più indicato per i climi o i tempi proprio freddi ma penso che con il clima attuale possa ancora andare bene non lo vedo in estate questo devo essere onesta però per il momento è adoperabilissimo se trovate qualche occasione io questo per esempio lo avevo preso ad un prezzo veramente stracciato su amazon ancora e l'ho pagato forse penso di averlo pagato sui 13 o 14 euro attualmente non so se è aumentato però insomma darò un'occhiatina poi semmai vi lascio il link nell'info box come faccio di solito questa è la mia ultima proposta del giorno ed è ragba a dimenticavo anche questo è unisex al cento per cento e questo è buonissimo anche se volete leggerarlo a qualche altro profumo perché di fatto è una vaniglia gli da quel quid in più che serve magari ad impreziosire qualche altro profumo per oggi ho finito io spero che il video sia stato interessante e mi raccomando vi aspetto anche al prossimo un bacio a tutti ciao